Sì, sì, ma tutti cercano di migliorare. Kovacic, non ci scordiamo, un ragazzino. Alcuni parlano di Amsic. Amsic aveva, forse l'età lì, forse quando è arrivato a Brescia, già quando l'ho trovato io al Napoli, aveva un'altra età, aveva già fatto campionati. Non ci scordiamo di questo. Sì, ma tutti stanno cercando di migliorarsi, di migliorare. Ha detto bene lei, oggi è una nota confortante, una squadra comunque, come abbiamo visto, molto ben messa in campo, con dei valori anche di qua, attaccanti di valore, al di là che ci hanno fatto soffrire, però non hanno fatto granché, cioè non abbiamo concesso quasi una palla a gol, diciamo, se non mi ricordo male. E quindi questo è un aspetto importante. Davvero, si è visto proprio lo spessore diverso, proprio un giocatore che ha vinto tutto. Io lo dico a volte, glielo ho detto, non solo il tipo di fallezioni in Ata, è un giocatore importante, ma lui è davvero sempre bionico, non mi viene da dire a 40 anni, dopo l'infortunio non ho avuto, è entrato in campo con una padronanza, una sicurezza, una sorpresa anche a me. Era una scelta anche un po' psicologica, vedevo la squadra, c'erano tanti ragazzi in campo che cominciavano a soffrire, volevo mettere anche la presenza di un giocatore di quello spessore e in più mi ha dato qualcosa che forse non mi aspettavo nemmeno io, quella grande progressione, quel controllo di balla che ha spaccato la partita, ha fatto sì che finalmente chiudessimo questa gara, che poteva essere anche pericolosa nel finale e come ci è successo alcune volte, magari avremmo buttato via due punti o comunque il luogo avrebbe meritato di fare qualcosa di più.